Via, 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 via Oh, che cazzo è successo? Boh, ogni tanto le cose strane What? C'è il mio primo mette 900 di danno, ma ne tengo 8 Voglio il 100 di danno di prima d'amore La 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 Comunque secondo me nella nuova gridmodo non ci sta più la roba per essere immun all'esplosione Nella gridier Oh, io non ho trovato nemmai niente Ho fatto qualche run, però C'è neanche ho fatto tantissime run, però Si è trovato proprio niente, niente, niente Ah, prima li sponati, poi andate ad ucciderli Cazzo Eh 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 Non è Mori, 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 via Prontiii Giustamente la head of keeper Quale poteva essere Cazzo Cazzo l'ho presa a fare Oh cazzarola L'avevo vista Vaffanculo Oh rottura di coglione Se la vogliamo dire tutta A me ne è anche il nuovo keeper piace E il nuovo ultra grid piace Sinceramente Un po' troppo Esplosivo Guarda là Dove è? Ah eccolo Vaffanculo Andata là Dov'è? GG GG A random GG Non stavo neanche vicini Crown art Ah GG 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 GG